Ciao a tutti amici, pomeriggio, oggi, dopo lavoro, c'è una passeggiatina, vediamo come va. E chi c'è, chi c'è accanto? Polpetta, questo lo chiamo polpetta, tondo, tondo, c'era un cocomero, tondo, tondo. E meno male che ho guardato bene. Amici, bellissimo questo, che funghi, che funghi, che porcini. Che scena ragazzi, guardate che bei funghi. Wow, bellissimo, guardate cosa c'è accanto qui, guardate, guardate. Wow, wow, meraviglia, meraviglia. Wow, che bello. Wow. 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 Grazie a tutti. Che bello gnometto. Amici, oggi nel silenzio più assoluto ho mai incontrato un'anima viva. Che bello. Che bello quest'altro, ragazzi. Wow, guardate che sfungo. Che bell'incontro amici, guardate. Qui vicino c'è il fratellino che è ancora più bello. Molto bello. Facciamo i buchi. Bocciolotto. Mi raccomando amici, non vi dimenticate mai di dare un'occhiata sempre accanto alle spie. dei nostri amici porcenti. Altri due bellini. Uno. Mi raccomando amici, non vi dimenticate mai di dare un'occhiata. E' un po'. Molto bello. Che bello. Che bello. Camerabine. Ed ecco quelle che mi piacciono di più. Quelle difficili da vedere. bello. 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 ed ecco un altro bellino ciao a tutti amiche e amici del canale eccoci qui per un'altra uscita oggi è pomeriggio dopo lavoro ho voluto mettermi proprio vicino al fiume per fare una ripresa, una clip un po' più particolare sono entrato nel bosco alle ore 15 sono le ore 17 e mi sono divertito guardate che bei funghi guardate che bei porcini bellissimi, bianchi freschi, sodi molto molto belli davvero spero che i miei video vi piacciono in tal caso iscrivetevi al canale lasciatevi un bel like un saluto a tutti voi e mi raccomando fate sempre i bravi e buone fungate a tutti grazie 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 a tutti